La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani. La voce non va sul battito. La voce non va sul battito, ma va nel cuore delle mani.